Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Giovanni e oggi appunto vi porto un video un po' diverso dal solito comunque per tenervi in compagnia Il commentario da criniera, non cavallo, allora precisa una cosa, è la terza volta che lo faccio quindi non giudicate perché non riesco a farlo molto bene E niente, adesso vi lascio il video, a dopo, ciao! Ah, e precisa un'altra cosa, se mi avete piaciuto così è perché tipo mi sono appena svegliato, oggi io non sono andato a scuola perché i miei compagni sono a teatro e io ho deciso di stare a casa a godere i feel E niente, quindi adesso mi cambio anche, ciao a dopo Stiamo andando verso feel e cioè che è lì e adesso andiamo lì e tagliamo la criniera Oggi è una bellissima giornata, davvero molto 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 bella e quindi sì, oggi si fanno tante cose belle A presto Grazie mille A presto Grazie a tutti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Spero che questo video vi sia piaciuto Vi abbia tenuto compagnia Mi raccomando iscrivetevi al canale Attivate la campanella per rendervi sempre aggiornati Scrivete tanti bei commenti E fatemi sapere magari Che video vorreste vedere Qualcosa magari in particolare E niente Ci vediamo al prossimo video E ciao